La prestigiosa Franco Cosimo Panini Editore ha riprodotto in facsimile in sole cinque copie il Codex Purpureus Rostanensis, l'Evangeliario greco miniato risalente al VI secolo, riconosciuto nel 2015 Memoria del Mondo dall'UNESCO e custodito presso il Museo Diocesano del Codex di Rossano. La presentazione ufficiale del facsimile si è tenuta nel corso di un apposito evento, la presenza dell'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano, di Don Giuseppe Straface, direttore del Museo Diocesano del Codex e di Lucia Panini, responsabile del progetto editoriale della Franco Cosimo Panini Editore. Un'impresa straordinaria e oltre un anno di lavoro per ottenere una riproduzione quanto più fedele all'originale, con tecniche di stampa digitali e all'avanguardia. Per riprodurre il codice, un manoscritto unico, abbiamo fatto un percorso abbastanza complesso, ci abbiamo messo quasi un anno e mezzo perché ci è stato richiesto di fare una riproduzione in sole cinque copie. Cinque copie comunque presupponevano delle tecniche di riproduzione digitali e la tecnologia in questi mesi si è evoluta a tal punto che ci ha permesso di fare delle tipologie di stampa particolarmente complesse, utilizzando dei pigmenti di colore particolari, delle lamine, delle sporcature. Abbiamo riprodotto la BH. Quindi è stato un lavoro abbastanza complesso dove tutto lo staff del Museo di Ocesiano ci ha aiutato, ci ha supportato moltissimo dandoci la possibilità di fare le prove cromatiche ogni volta che era necessario. Quindi è stato un progetto entusiasmante per un codice così spettacolare. Il risultato è straordinario. Quanto siete orgogliosi di questo? Siamo molto contenti. Noi sono 25 anni che riproduciamo codici. È sempre una sfida, un codice nuovo, ma questo è stato veramente un'emozione grande. Tant'è che quando la diocesi di Rossano ci ha chiamato, Rossiano Cariati ci ha chiamato per valutare questo progetto, siamo scesi, io con le mie sorelle, tutti e cinque, siamo scesi tutti insieme per vedere questo codice perché effettivamente ne vale davvero la pena, vale la pena una visita da tutta Italia e da tutto il mondo. Preziosa la collaborazione dell'Associazione Insieme per Camminare, ente gestore del Museo Diocesano del Codex, sia nella fase preparatoria del lavoro, sia per la promozione del Codex attraverso l'esposizione dei facsimile sui palcoscenici culturali internazionali. L'intero progetto, nato su ispirazione dell'Arcivescovo Satriano, mira infatti a rendere ancora più fruibile l'Evangeliario oltre i confini territoriali. Uno dei libri più antichi che l'UNESCO ha voluto porre sotto l'egida del libro della memoria dell'umanità. Da questo punto di vista ci è sembrato interessante offrire ai visitatori questa possibilità, ma anche regalarci l'opportunità di poter portare il Codex fuori dalle mura di questo nostro contesto storico e culturale che è il Rossano e il territorio della Sibaritide per intercettare e confrontarci anche con altri codici che sono presenti, codici coevi presenti in Europa. Perché l'intento sarebbe quello di creare un percorso che intrecci anche la storia del codice di Berat, di Pietroburgo, di Parigi e di Vienna. Quindi l'intento è quello di una promozione culturale. Non abbiamo voluto fare molte copie come è stato fatto all'inizio, almeno in questa prima fase. È stata una scelta ecclesiale, non è stata una scelta personale, proprio perché si vuole preservare l'unicità del codice e anche dare per gradi la possibilità a quante più persone si accosteranno anche di toccarlo e di vederlo da vicino. È chiaro che è sempre un fac idem realizzato con perizia e passione dalla Panini attraverso una tecnologia ormai sofisticata e curata. Ascolteremo anche nel particolare, dalla conferenza stampa, come è stata realizzata questa copia. Per noi è un investimento economico e culturale, direi soprattutto, proprio perché, ripeto, ci possa essere questo contatto fisico con la storia. Noi abbiamo, intanto non è stata l'unica ad essere visionata, abbiamo fatto un lavoro di un anno e abbiamo cercato attraverso le varie realtà presenti sul territorio italiano e locale la possibilità di intravedere chi ci avrebbe offerto un grosso servizio di valore. E quindi siamo approdati dopo un discernimento graduale proprio alla Panini che sapevamo già da tempo essere una ditta con cui lavorare a Treccani. Quindi stiamo parlando di livelli abbastanza significativi e grossi. Questo è un evento importante per noi e un ulteriore passo nella valorizzazione di questo territorio attraverso l'opera più bella che questo territorio ha consegnato alla storia.